Finalmente dopo diversi anni viviamo l'ordine pure a Salerno, che per noi che siamo abituati in realtà ad andare avanti e indietro è una grande opportunità. In realtà è una soddisfazione nel senso che comunque a Salerno non ci sono dei punti di ritrovo per l'ordine o comunque per noi psicologi di qui che magari abbiamo bisogno di costruire una rete quindi pensare che ci sia proprio un posto dove potersi anche vedere, riunire e confrontare è una grande risorsa per noi. La location è bellissima, è un palazzo storico importante al centro di Salerno, quindi facilmente raggiungibile. Il mio primo pensiero è stato proprio che risparmiando il tragitto fra la provincia e Napoli per chiunque avesse avuto bisogno di muoversi per interrogare la segreteria, presentare progetti o in generale mantenere le comunicazioni, di sicuro avrebbe semplificato e migliorato l'operatività su tutto quanto il territorio. Mi piace l'idea di pensare che il territorio napoletano si possa confrontare col territorio salernitano o col territorio casertano e poi le altre province della Campania. Mi piace perché per vedere anche un confronto per l'utenza anche, per capire che tipo di utenza, se l'utenza può essere diversa.